Seconda parte della nostra rassegna, prima di vedere le ultime dei campi di Serie A andiamo a dare un'occhiata anche rapida a quanto è successo in Serie B, un turno ancora una volta pirotecnico, tanti gol, andiamo sul Corriere dello Sport con l'undicesima giornata con il Frosinone che vince 2-1 contro la Spal e 1-0 anche per il Novane in casa contro il Bari e 0-0 nel big match tra Pisa e Verona. Si ferma quindi la capolista in casa della squadra di Gattuso, pareggia la Serenitana in trasferta ad Ascoli, Brescia invece vince in rimonta e mantiene l'imbattibilità al Rigamonti con anche una rete vecchio stile di Pinzi molto determinante. Trapani di Cosmi trova la prima vittoria stagionale in casa del Benevento, questi quindi tutti i risultati, in particolar modo abbiamo visto quindi Brescia-Vicenza 2-1 con il Vicenza che l'aveva sbloccata all'ottavo con Puccino sul secondo palo a deviare la punizione di Bellomo e a portare in vantaggio i Biancorossi. Poi la Rondinelle trovano il pareggio con Vassallo mentre a poco meno di un minuto Pinzi ribalta tutto con un gran tiro al volo dalla distanza portando addirittura in vantaggio il Brescia. Abbiamo detto quindi anche del Frosinone che vince contro la Spal, 1-0 del Novara contro il Bari è firmato da Faragò al 39esimo, cade il Perugia in casa con il Carpi 0-2, abbiamo detto quindi 0-0 tra Pisa e Verona. Una sfida equilibratissima, quella appunto tra i ragazzi di Gattuso, una gran difesa che prevale contro le incursioni offensive dei veronesi vicini al gol con Pazzini in più di una occasione. Pecchia decide di provare a cambiare la partita inserendo una seconda punta centrale di peso come il giovane Gans ma non basta e quindi 0-0. Stesso il risultato anche se con due reti tra Provercelli e Latina, 1-1 la Provercelli in vantaggio con Ebagua, poi il Latina appunto pareggia con Regolanti, quindi un pareggio per i nero-azzurri del capoluogo Pontino. Andiamo a vedere quindi le ultime dai campi, ovviamente quelle che sono le formazioni che scenderanno in campo in questo turno molto ricco. In particolar modo iniziamo da Fiorentina a Crotone che è un'occasione in qualche modo d'oro per la formazione di Paolo Sousa. Oltre che essere in casa è contro l'ultima in classifica, il Crotone solo un punto in classifica, Fiorentina con il 4-4-2, Tatarosano tra i pali, Tomovic, Rodriguez, Astori e Olivera, poi Bernardeschi, Sanchez, Baledi come doppio regista e Teio sulla fascia destra. In attacco probabilmente Nicola Kalinic e Babacar con due punte, tridente invece per il Crotone Palladino Falcinelli-Stoian, dietro di loro Capezzi, Barberis e Rodin, mentre la difesa è a 4 con Rosi, Ferrari, Ceccherini e Martella a difendere. I pali di Cordaz chissà che non sia una serata ancora difficile per il portiere, purtroppo più volte battuto, purtroppo per i tifosi del Crotone, in questo avvio difficile di campionato. E poi abbiamo detto una partitissima, una partita molto molto sentita da ambo le parti, per una doppia valenza sia di classifica che anche per capire che fine farà Frank De Boer, secondo tanti addetti ai lavori potrebbe essere una sua ultima partita. Il modulo dei tecnici è lo stesso, 4-3-3 per l'olandese, 4-3-3 per l'ex interista Mihailovic, l'Inter con probabilmente Andanovic, Anzaldi, Miranda, Murillo, Nagatomo, Banega, João, Mario e Brozovic come tre intermedi ed Er, Candreva su tracesterna ad accompagnare i centramanti Icardi. I centramanti del Torino sarà ovviamente Belotti accompagnato da due ex romanisti in grande condizione come Falke e Eliai, c'è dietro di loro in cabina di regia Val di Fiori accompagnato da mediani come Acqua e Obi, poi difesa 4 con Zappacosta, Rossettini, Moretti e Barreca in porta l'ex Manchester City, Jean Hart, che sta facendo molto bene quest'anno. Altra partita inevitabilmente decisiva, oltre che per una Samp che vuole ritrovare continuità dopo la vittoria nel derby, certamente per la Juventus, una Juventus che vuole mantenere il primo posto e poi avvicinarsi nel miglior dei modi alla partitissima contro il Napoli di sabato, dopo ovviamente la sconfitta contro il Milan. La Juve con il 3-5-2, Allegri riporta in porta probabilmente Neto, poi Benatia, Bonucci, Chiellini come tre difensori, Evra è quadrato su traccia esterna, Pjanic, Marchisio e Lemina nei tre mediani, Iguain e Mandzukic la coppia di peso d'attacco. La Samp con il 4-3-1-2, Pugioni tra i pali, Regini, Snikar, Silvestre e Sala sono i quattro difensori, Linetti, Torreira e Barreto, Intermedi, Alvarez probabilmente ad accompagnare, Quagliarella e Muriel. Muriel potrebbero naturalmente cambiare in corso d'opera le scelte dei tecnici, altra partita clou da non voler sbagliare per i tifosi bianco celesti della Lazio in casa, 4-3-3 contro il 4-3-1-2 del Cagliari di Rastelli che sta facendo, a parte l'ultima partita molto bene in campionato, Marchetti, Patrick, Wallace, Hurt e Radu in difesa, Lulic, Parolo e Cataldi intermedi, Keita, Felipe Anderson ad accompagnare Ciro Immobile, gran campionato per lui fino adesso e ovviamente poi dall'altra parte un Cagliari con le due punte, Borrello e Melchiorri ad accompagnarli Barrella, poi Taxidis regista con Isla e Munari sui suoi lati, Bittante e Murru, i difensori esterni, Cipitelli e Bruno Alves, il veterano Bruno Alves davanti alla porta di Storari, una partita comunque anche da grandi contenuti tecnici questa, vedremo come andrà in corso d'opera e ovviamente poi la partita del cuore per Maurizio Sarri, Napoli-Empoli, moduli diversi ma filosofia che è rimasta la stessa perché naturalmente l'impronta di Sarri è continuata anche con i suoi successori, Sarri che porta naturalmente Reina tra i pali, difesa a quattro con Maggio, Koulibaly, Chiriches e Goulam, Diavara probabilmente davanti alla difesa con Allan e Zelensky in cursori, Insigne, Kayakon e Mertens falso 9, senza due attaccanti centrali, il Napoli, vedremo come se la cavea contro un Empoli che conosce evidentemente bene, schemi e filosofia e dettami tattici del suo ex allenatore, l'Empoli con Skorupski tra i pali, Veseli e Pasquale difensori esterni, Bellusci e Costa centrali, Giuseppe Mauri con Teglio e Buccell intermedi, di Saponara con i 10 trequartista dietro Maccarone, Pucciarelli, una partita davvero importante, il Napoli che vuol risalire la china e prepararsi come la stessa Juve alla partitissima dello Juventus Stadium contro i Bianconeri e poi naturalmente una partita anche qui di Amarcord e anche di grandi incroci, tanti ex romanisti nel Sassuolo, a partire dall'allenatore Eusebio Di Francesco che ha vinto uno scudetto con la Roma e non ha mai lasciato d'intentato il sogno di continuare magari la carriera dell'allenatore un giorno proprio sulla panchina dei giallorossi dopo aver esordito come anche team manager nello staff tecnico di Luciano Spalletti che ne ha parlato benissimo, queste le scelte dei due tecnici, Sassuolo con il 4-3-3 con consigli tra i pali Gazzola, Antei, Acerbi e Peluso, Biondini, Pellegrini e Mazzitelli in mediana, Ricci, Matri e Politano quindi vedete tanti ex romanisti da Antei, Mazzitelli, Pellegrini, Ricci e Politano ovviamente anche in panchina, la Roma dovrebbe rispondere con Scesni tra i pali, Emerson a sinistra ovviamente Florenzi a destra, Manonaz e Fazio, centrali unici, centrali rimasti in attesa del recupero totale di Rudiger davanti alla difesa Strootman e De Rossi, probabilmente preferiti a Paredes in cursore Nainggolan, attaccanti esterni Salah e Sharawi ad accompagnare il capocannoniere Edin Dzeko una partita decisiva per entrambi, Sassuolo in caso di vittoria si porterebbe a 16 punti dico, dando anche poi la partita persa a Tavorino, sarebbero addirittura 19 quindi sarebbe tecnicamente secondo il Sassuolo la Roma invece vincendo tallonerebbe la Juventus oltre che a staccare nettamente il Milan è in attesa poi proprio della Juventus la partita dei bianconeri contro la Samp e poi il match clou di sabato contro il Napoli quindi è uno snodo fondamentale questo per la formazione di Luciano Spalletti per poter dare continuità dei risultati e sognare anche in grande noi con questa notizia ci prendiamo un breve momento però di pausa torneremo subito dopo con la terza ed ultima parte della nostra rassegna tra poco